Ragazzi, una cosa velocissima, prima di iniziare il video ho iniziato un contest per i miei supportatori, per chi utilizza il mio codice supporto, NEZAC tutto maiuscolo trattino basso, ai 10.000 supportatori regalerò questo scaf, come vedete, non so se lo vedete, ok, vedete che c'è il simbolo scaf, questo qua è la custodia, c'è dentro il joystick, non ve lo faccio vedere perché è una sorpresa, è autografato da me, è completamente nuovo, lo regalerò a uno di voi, quindi mi raccomando, mettete il mio codice, arriviamo ai 10.000 supportatori, non sceglierò io, non sceglierò io, userò un algoritmo che ti fa scegliere in base, tu metti dei nomi e ti fa scegliere, quindi io, quando voi shoppate, inviatemi il video, shoppate con il mio codice, inviatemelo su Instagram e salvateli, mi raccomando, salvateli tutti i video che mi mandate, salvateli perché poi io annuncerò su Instagram, una volta raggiunti i 10.000 supportatori, di mandarmi tutti i video, ci saranno, ovviamente salverò tutti i nomi, non saranno 10.000 persone, ma lo farò, userò Excel e ci metto 2 secondi, salverò i nomi e sceglierò una persona a caso, completamente in maniera casuale, quindi mi raccomando, utilizzate il mio codice e lo porterò di persona, che sia Milano, Roma, Bari, non mi interessa, lo porto di persona, quindi avete anche un incontro con me, perché voglio essere sicuro che questo coso arrivi e non voglio buttare 200 euro su un 200 euro di roba, quindi 209 tipo, quindi mi raccomando ragazzi, mettete il mio codice e godetevi il video. Bella boys, ah oh, bella raga, incredibili signori, siamo tornati incredibilmente con una nuova storia, non so perché siamo partiti in 88, non lo so, neanche in pubblico ormai ci sono le persone che giocano a questo gioco, questo gioco è una merda, sono sottovalutato, sono il piede più forte della storia. No, a parte gli scherzi ragazzi, quest'oggi signori tornano le storie, tornano le storie e vi racconto incredibilmente la prima volta in cui, no, non è la prima volta, che cazzo dico, no, quella volta in cui ho fatto una rissa, cioè ho rischiato di fare una rissa, non so se è stata una rissa o no, vabbè, adesso vi racconto tutto. In strada, completamente in strada e questo automobilista era abbastanza stronzo, puoi morire per favore? Grazie, c'è una mira che fa, che è ridicola, cioè io ho missato 700 colpi e tu sei riuscito a non uccidermi, complimenti. Sì ragazzi, nella mia prima partita del giorno ero fuori a prendermi un caffè con una nemica, sono tornato, sono qua a raccontarvi le storie. Allora, vi racconto un po' il prequel della storia, allora io sono andato, era estate, era prima il metà giugno, ero andato all'old fashion, l'anno scorso era, ero andato all'old fashion a ballare, per chi non sapesse chi è, che cos'è, cioè non a ballare, scusate, lo sapete che io odio il ballare. Era andato a un complanno di mio amico, quindi ero obbligato ad andare in discoteca perché io ogni volta che ci vado appunto faccio a botte, ma è una cosa incredibile, cioè veramente il cervello di quelle persone, le persone che vanno in discoteca è pari a quello di Barbara D'Urso, ubriaca e fatta di qualsiasi cosa. Comunque, torniamo al discorso e abbiamo, appunto, era andato all'old fashion, per chi non lo sapesse appunto il locale di Milano che c'è in estate, c'è sia all'aperto che al chiuso, c'è il locale proprio, c'è metà chiuso e metà all'aperto, quindi è un bel locale. Devo dire che l'old fashion è un bel locale comunque. E niente, siamo andati lì in quella discoteca appunto a festeggiare il compleanno e come molti di voi non sanno, oppure chi di Milano lo sa, il parcheggio dell'old fashion è abbastanza ambiguo, nel senso che è molto incasinato. Pensate che io quando ho preso la prima, proprio il primo giorno in cui avevo la macchina, proprio il giorno in cui ho preso la patente, cosa sta facendo questo tipo? 34, bel gioco. Li tolgo più con uno sputo a questo tipo? Dai zio, mori per favore, mori, mori, grazie. Che cosa fai? Sei ubriaco? Sei buono zio? Cosa stai facendo? Mori, coglione. Ok? E stavo dicendo, il primo giorno appunto in cui ho preso la patente, proprio io avevo preso la patente il sabato, il 18 giugno, sabato pomeriggio, e il sabato sera ero andato all'old fashion in macchina. Ovviamente non è questo il giorno in cui è successa la cosa, io avevo già l'anno scorso, la patente ce l'ho da tre anni, quindi non è, però ve lo devo solo dire. E completamente ero terrorizzato completamente dal parcheggio dell'old fashion perché ai tempi io non sapevo, appena ho preso la patente, trovarci in quel parcheggio lì dove c'era macchine ovunque, praticamente c'era le macchine sugli alberi. Era gente con i redeploy, gente che riftava, gente ovunque, gente che buildava, non si capiva niente in quel parcheggio quindi era abbastanza terrorizzato. Vabbè, tralacendo questo piccolo aneddoto, appunto vi stavo dicendo che... Ok. Ho finito i materiali, sono morto, sono completamente morto. Oh mio Dio, what a clutch, baby! Oh mio Dio, oh mio Dio che clutch ho fatto, ragazzi! Ok. Ritornando al discorso. Stavo dicendo che quel parcheggio è una merda, è completamente una merda, pieno di macchine, eccetera. Però io, abitando a Peschiera Borromeo, devo andare per forza in macchina a Milano. Come ci vado in macchina? Se vado a ballare, come torno? Non torno? Torno con la prima metro delle sette, oppure non torno? Quindi devo andare per forza in macchina. Allora, appunto, l'anno scorso siamo andati a ballare in questo locale e già lì, devo dire che già lì, il mio passo aggressivo, lo chiamo così, era sopra la media perché praticamente un ragazzo, anzi, vabbè, un marocchino, non ci sono riferimenti razzisti, è solo un modo per descriverlo. un marocchino, si è completamente tirato fuori il pisello davanti, dietro a una mia amica. Ma proprio, si è completamente nudo, raga, si è tirato fuori il pisello, tipo come quando io smerdo gli haters, no, che mi tiro fuori il cazzo. Vado completamente e glielo mostro praticamente. E questo qua, si è andato dietro, la mia amica si è completamente tirato fuori il pisello e ha iniziato a strusciarglielo dietro. Cioè, è una cosa che, veramente, se me lo ribecco davanti, quello lì li stacco le pali e le metto al posto degli incisivi. E infatti, io e i miei amici l'avevamo visto, ci siamo avvicinati, gli abbiamo praticamente quasi spezzato due dita. Ma c'è un tipo, ma what the? Gli abbiamo praticamente quasi spezzato due dita e lui era abbastanza terrorizzato, devo dire. Perché era abbastanza, come dire, incattivito. È andato questo tipo, sta cazzo di shadow. Dove pensi di andare, zio? Mettetene un'altra, ma tanto ti inseguo. Ti vedo. Non ti vedo più. Dove sei andato? Vabbè, niente. Gli chiamo al gatto e topo. Vabbè, era completamente terrorizzato. Questo qua si è cagato sotto in una maria incredibile, perché praticamente io gli ho preso una mano, perché lui poi ha toccato la spalla della mia amica, no, col pene di fuori. Cioè, è una roba assurda. Ho preso la mano e gli stavo a spezzare le dita. Se non mi avessero fermato, probabilmente io sarei finito... Avrei dovuto pagare un esercimento. Ma penso che non l'avrei pagato, visto che... Visto il soggetto in questione, penso che il esercimento non l'avrei assolutamente pagato. Questo tipo dove si trova in questo momento? Non ho la minima idea. Comunque, per dirvi, questo era quello che era successo dentro. Quindi, il mio tasso di violenza, diciamo che era aumentato dopo aver visto questa scena abbastanza borbolosa. Ma penso che chiunque di voi, ragazzi, quando va in discoteca o va a ballare con delle sue amiche e amici, penso che sia... Cioè, se non lo siete siete dei coglioni, ma penso che sia abbastanza protettivo verso le ragazze, tra virgolette. Tu cosa stai facendo? Mi sembri un tarato totale. Ed è giusto così, no? Quindi, vabbè, è successa questa cosa qui, quindi io avevo, diciamo, il mio... La mia violenza era praticamente allo stato 10. E il massimo dello stato della violenza è 10, quindi vi dico quanto volevo fare del male alla gente in quel momento. E niente, quindi, vabbè, dopo che è successa questa cosa in questo frangente, in questa discoteca, succede un altro delirio. Succede praticamente un altro delirio. Allora, c'è un mio amico che ci aveva una coppia di amici che, appunto, erano fidanzati tra di loro. Cosa stai facendo? Erano, appunto, fidanzati tra di loro. Questo qua è il mister di prima. Erano fidanzati, no? E il problema è cos'è? Che quando vai in discoteca con la tipa e magari non le stai vicino, arrivano i grandissimi figli di puttana che, poverini, non lo sanno che è fidanzata, ma anche se lo sapesse probabilmente non cambierebbe nulla, che praticamente... Aspettate che avevo messo l'audio di gioco basso, quindi ora lo alzo. Che praticamente ci provavano con questa tipa fidanzata, no? Allora, noi l'abbiamo risolto, guarda che c'è quel tipo lì, c'è quel gruppo di amici lì che ci sta provando con la tua tipa. Così lui fa, no, minchia, adesso le ammazzo di botte, questi non sanno che la tipa sta con me. Allora va tutto convinto, va a fare brutto questo gruppetto, e gli dice, guardate, scusate... Cioè, no, non è col cazzo che gli dice scusate. Gli dice, cosa stai facendo? Tipo così, no, perché c'è la voce un po' così, sembra quello del collegio, no? Mattia Scaviglia, come cazzo si chiama? Quello che mi avete fatto vedere ieri in live. Vabbè, quello lì. Aveva la voce un po' così, no? E... E vabbè, ma c'è un tipo. What the fuck? C'è stato un tipos. Vabbè. E praticamente, appunto, fa brutto, no? Il che, lì, allora, intervieni, risolve. Perché questi stavano venendo alle mani, ragazzi. Cioè, stavano venendo alle mani perché dicevano, non me ne frega un cazzo che la tua tipa se ci sta con noi, vuol dire che tu non la soddisfi abbastanza, non l'aveva disposto esattamente in questo modo. Ed è veramente una cosa abbastanza imbarazzante, perché, voglio dire, cioè, ti sembra il modo. Ti sembra veramente il modo per... Lui ti sta dicendo, quella lì è la mia tipa. E loro gli rispondono in questo modo. Vabbè, siamo in Italia. Quindi stava succedendo veramente il delirio, ragazzi. Niente, questo tipo mi deve romper i coglioni. Mi si è bloccato completamente il gioco. Perfetto. E, appunto, dai, continua a sparare con la deagle. E... Quindi, anche lì, intervieni, spostali, spingi le persone, chiama e butta fuori, sta succedendo un delirio, così. Al che... Una volta, vabbè, arriva la torta, tutto. Perché questo era prima delle due. Prima delle due. Sì, la torta l'abbiamo presa alle due, perché a mezzanotte c'era troppa gente. Ragazzi, noi avevamo preso il tavolo, e ve lo giuro che c'erano 200 persone non in tavolo, che ci stavano letteralmente rubando il tavolo. Cioè, ma noi non potevamo fare niente. C'erano 200 persone che arrivavano in pista, ballavano, facciavano quel cazzo che volevano. Come succede sempre in Italia, praticamente. E quindi questo è quanto. Noi abbiamo preso la torta alle due, e... Ma che cazzo dico la torta? Ma raga, ma cosa sto dicendo? Ma lo champagne, non la torta. Lo champagne l'abbiamo bevuto alle due, la torta. Uno che ha dieci anni. Ah, ci sono le palle in pubblica, vabbè. Comunque non la torta, lo champagne, mi sono sbagliato, scusate. Quindi abbiamo bevuto alle due, e niente. Io, ovviamente, essendo in macchina, non bevo mai tanto. Io non... Anzi, quasi quasi non bevo proprio quando sono in macchina. Però mi capita, appunto, in queste occasioni, di bermi quel bicchierino di champagne, o quel bicchiere di... di... di beer, cazzo non so. Giusto per non fare assolutamente il nulla. Dove stai andando, zio? Io ti inseguo fino alla fine dei miei giorni. Giusto per non fare assolutamente il nulla, e quindi... qualcosina, no? Ma qual è la cosa bella? La cosa bella è il dopo. Una volta finita la festa, erano tipo le quattro di mattina, le tre e mezza, fai. Erano più o meno, sì, le tre e mezza del mattino. E io, giustamente, torno a casa, no? Finita la festa, torniamo a casa. Io ci metto più o meno 30-40 minuti a... Come dire, a... A tornare a casa dall'All Fashion, perché, come sapete, io non sono in centro Milano. Quindi ci metto più o meno 30-40 minuti. Questo cosa sta facendo? Mi ha veramente rotto il cazzo, zio. Mi sembra veramente ritardato. Mori, grazie. E... Appunto, ci metto 30-40 minuti, quindi sapete benissimo. Ma? È arrivato uno con... Quindi ho un po' di strada da fare, no? Ovviamente anche per quello che non bevo, perché avendo... Non ho poca strada, no? Quindi non avendo poca strada da fare, io mi voglio... A parte che non voglio perdere la patente, perché se io perdo la patente sono completamente morto. Quindi non perdo assolutamente... La patente non la voglio assolutamente per... Niente! Cioè, questi qua sono tutti delle fighette totali. Dai, gira, ti sparami. Ok. E... Cosa succede? Adesso vi racconto, ragazzi. Cosa succede? Io esco dal parcheggio dell'old fashion in macchina, ovviamente. Esco dal parcheggio dell'old fashion in macchina. Esco... E tutto bene. Fin quando esco tutto bene. Il parcheggiatore mi inizia a rompere i coglioni, perché secondo lui io non avevo messo la macchina dove voleva lui, perché sai che... Sapete che ci sono... Per chi guida... Ci sono i parcheggiatori che ti indicano dove metterla la macchina, no? Io non volevo metterla lì, perché era... Pioveva ed era sotto un albero. Era sotto un albero. E... E non... Cioè, sotto la pioggia. Sinceramente se mi cade un ramo sulla macchina il parcheggiatore ti sventro e ti vendo completamente ai migliori offerenti. E comunque... Quindi non l'avevo messa sotto un albero, ma l'avevo messa da un'altra parte. Il parcheggiatore arriva, non si sa come, mi rompe i coglioni, probabilmente si ricordava di me, non lo so che memoria hanno queste persone, ma io l'avevo visto un tipo qui. Com'è andato? Ah, è lì. E praticamente... Ma cosa... E mi rompe i coglioni, no? Quindi lì... Vi lo giuro ragazzi che quella serata io probabilmente dall'adrenalina arrivavo a casa e tiravo una testata a mia nonna. Mi rompe i coglioni il parcheggiatore e dico, vabbè, fanculo. Mi dice, paga altri due euro perché l'hai messa in un posto dove non potevi fare... Ma col cazzo, quel tempo se non hai proprio capito, cioè io già ti ho dato cinque euro per un parcheggio, poi se mi devi fare pagare altri due euro io ti inculo con la carta vetrata nella sabbia. smetto, ti faccio, no, senti, non è che perché non scelgo il tuo posto non pago, pago di più, semplicemente pioveva e non mi andava a mettermi sotto un albero. Mi fa... Ho accelerato, me ne sono andato perché non ci sono le sbarre, me ne sono andato chiaramente. Quindi dopo che succede questa cosa qui arriva, arriviamo al punto ragazzi, arriviamo tutto al punto. Praticamente sono alla... Praticamente a una rotonda, che è inutile che vi spiego dove ero perché molti non sono di Milano quindi non lo conosco. Per chi è di Milano vi spiego che ero alla rotonda della... della... Come cazzo si chiama? Di Piazza Lelodi, perché io per tornare devo fare quella strada lì. Era la rotonda di Piazza Lelodi e c'è uno, completamente un signore, cioè un signore, un papà, avrà avuto sulla... Ma cosa stai facendo, zio? Avrà avuto sulla... sulla cinquantina, più o meno. Ah, non aveva neanche redeploy. Beh, bello questo tipo. Furbissimo. Avrà avuto sulla cinquantina che va letteralmente a due all'ora. Ma proprio va a due all'ora ragazzi, ve lo giuro. Che va completamente a due all'ora. Al che io mi altero e inizio a... come dire... a muovermi, no? Inizio a, non lo so, fargli... fargli cenno di andare un attimo più veloce, ma non è che gli... gli dicevo, tipo... non è che gli ho suonato, gli ho fatto semplicemente gli abbaglianti. Però cosa mi accorgo? Mi accorgo che lui non ha le luci accese. Non ha le luci accese, raga. Erano le tre e mezza di notte. Era le tre e mezza di notte sotto la pioggia. Questo tipo, con due figli in macchina, due figli anzi, non aveva le luci accese. Ora tu dimmi chi è che ti ha dato la patente. Non ha le luci accese, a Milano è le tre e mezza di notte. Allora cosa faccio? Ah, il corvo di merda, ma levati dal cazzo. E adesso mi chiudo un attimo e vi faccio vedere i gesti che gli facevano. Ero in macchina e li avevo fatto così. Gli ho suonato, gli ho suonato, gli ho fatto gli abbaglianti che ho col tastino e poi gli ho fatto così, no? Così, nel senso accendi le luci. Questo qua in macchina è accendi le luci, no? Accendi le luci. Questo cosa fa, ragazzi? Provate a immaginare cosa fa. Adesso io vi do dieci secondi per provare a immaginare cosa fa. Vi do dieci secondi. Ok, avete immaginato? Boh, probabilmente avrete immaginato giusto perché lui si ferma dietro la... si ferma dopo la rotonda. Si ferma completamente, ragazzi. Si è completamente fermato dopo la rotonda. Mi fa così. Mi fa il dito medio e mi inizia a inseguire con due figlie in macchina. Mi inizia a inseguire. Vi giuro, ragazzi, che mi inizia a inseguire. E a un certo punto io, tranquillissimo, io neanche... Feci finta di non notarlo, praticamente. Mi feci completamente i cazzi miei. Cosa stai facendo, zio? Ma stai bene? Mi feci completamente i cazzi miei e feci finta di non notarlo. Tanto non è che mi preoccupava un signore con due figlie in macchina, nel senso. Avevo altre preoccupazioni nella vita. Va bene, bravo, zio. Ahia! Sei impazzito? Avevo altre preoccupazioni nella vita, quindi leggendo le due figlie, sinceramente, non me ne fregava assolutamente un cazzo. Ok. Non me fregava assolutamente un cazzo, quindi ero lì, tranquillo, in macchina. Se non che questo arriva, arriva il pezzo forte, ragazzi. Arriva il pezzo forte. Lo volete sapere? Lo volete sapere il pezzo forte? Lui mi supera. Mi supera, ragazzi. Ve lo giuro che mi supera. Mi supera. accosta davanti a me. In una strada di proprio mezzo, cioè dopo piazzare le lodi c'è una strada per andare in piazza del corvetto tutta dritta. Lui mi supera e si pianta davanti a me. Io anche io ho detto me ne potrei andare benissimo, ma lì, a questo punto, se tu pianti vedendo come è andata la serata io ci voglio di fare del male a qualcuno, no? Quindi lui cosa fa? Si mette lì, si ferma. Proprio davanti a me. Cioè fate che, allora, fate che questa è la mia macchina. Questa qua è la mia macchina e questo si mette lui. Lui proprio si mette così. Qua c'erano due corsie. Fate che questa qua è una corsia. Ma no, ragazzi, che spiegazione. Questa qua è una corsia e questa qua è l'altra. Io volendo potrei, sarei potuto andare di qua, no? Però, non me ne frega assolutamente niente perché volevo fargli del male. No, sto scherzando. Volevo comunque vedere cosa viene. Bene, bella partita di merda. Abbiamo vinto, GG. Comunque, volevo, lui si mette davanti a me, ragazzi, si mette proprio davanti, scende dalla macchina, mi fa, tu, pirla, guarda come sei vestito. Ero in camicia, tipo, chissà dove sei andato, sei andato a puttana, sei andato lì, sei andato di là. Cosa mi fai così, in macchina? Cosa mi, cosa mi dici, bla bla, in macchina? Io gli faccio, se no, ma, lei si droga? Questo, come faccio io a sentirla parlare in macchina? Questo qua vuol dire, accenda le luci. Lei non so da quanti anni ha la patente, ma non ha acceso le luci con due figlie in macchina sotto la pioggia, non ha acceso le luci. Ragazzi, scusate, non so perché mi si era chiuso la registrazione mentre stavo chiudendo la storia, e praticamente, il, lui, dopo che io gli dico che questo qua significa accendere le luci, lui sbatte la mano sul cofano, della macchina, avete presente? Proprio sbatte la mano sul cofano e fa, io, al che impazzisco totalmente, scendo dalla macchina con la portiera, praticamente lo prendo dentro completamente, gli faccio, signore, non provi mai più a toccare la mia macchina con due figlie nella sua macchina, perché io le faccio del male, e le due figlie dovranno tornare a casa a piedi, giuro su Cristo, gli ho detto tipo così, questo qua faccio, questo qua fa, eh sì, infatti, ringrazio che ho due figlie in macchina, se no ti farei del male, così, tipo, viene così, fate che questo sono io, questo qua viene così, faccia a faccia, io lo spingo con una mano e faccio, se ne vada, signore, si avvicina ancora una volta, le faccio del male davvero, lui fa, sì, sì, me ne vado, me ne vado, prende la macchina e se ne va, al che, eh, prende la, anzi, prende la macchina e sta così, al telefono, la macchina sta così al telefono, ha detto, chissà che cazzo sta facendo questo, sono passato, gli ho suonato, gli ho alzato il medio, me ne sono andato, quindi, eh, mi dispiace il signore, ma, eh, ha perso, anche questa volta, mi raccomando ragazzi, se prendete la patente, state attenti che a chi avete macchina, state attenti agli altri, e soprattutto imparate a guidare, perché veramente a Milano ragazzi, la metà degli incidenti, la colpa non è vostra, ma è colpa degli altri, che vanno in giro senza luci, alle 4 di, di notte, con macchina due figlie, cioè che proprio rischi la vita, ma non sto scherzando, eh raga, con la pioggia, la visibilità è zero, praticamente quando piove tanto, se tu non hai le luci, nessuno ti vede, ti prende in pieno, qualsiasi macchina, quindi ragazzi, questa qua è stata la mia prima, cioè no, una delle prime risse in strada, non è stata, poi fatemi sapere se ne volete un'altra, perché ce n'è un'altra, però questa qua non è in macchina, ma è proprio in strada, quindi fatemi sapere se la volete, mi raccomando, raccontatemi tutte le vostre, quando voi avete fatto a botte con qualche persona, per qualsiasi motivo, droga, ragazze, alco, non lo so, raccontatelo, scrivete hashtag botte, anzi hashtag rissa, e raccontatemi la storia, che io li leggo tutti i commenti, ve lo giuro che in tutti i video, li leggo tutti i commenti di queste storie, perché mi fanno spisciare, mi raccomando, lasciate un bel like, arriviamo almeno a 8000 like, raga dai, 8000, mi racconto la prossima storia, bella boy,